Dove la 7 noi abbiamo uno spacco di la 7, la 7, 2,92 contro il 230, 69, in modo di rispetto ai 50 che abbiamo a cosa, che vi do, a San Leonardo, e poi da 3, per lo stanno 165 vuote, non potevo perdere 58. Non potevo perdere 58. Non potevo perdere 58. Sento! 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 eppure io mi comprato non può far meno un concorso 1.600 voti, quasi 1.600 voti Liglioli e dammi ratti No, 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 stai capo, 1.600 voti Aspettarmi con le sfide 5.500 voti 5.500 voti 5.500 voti Viaggio a Berlino gratis 5.000 voti 5.000 voti Non ci lo passi, non ci lo passi, non ci lo passi. Non ci lo passi. Non ci lo passi, non ci lo passi. Non ci lo passi, non ci lo passi. Non ci lo passi, non ci lo passi. Non ci lo passi. Non ci lo passi. Non ci lo passi, non ci lo passi. Non ci lo passi. Non ci lo passi, non ci lo passi. Non ci lo passi. Non ci lo passi. Non ci lo passi, non ci lo passi. 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 non ci lo passi, non ci lo passi. non ci lo passi, non ci lo passi. 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 Grazie. 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 La vittoria della squadra, la vittoria è stata dura, forse per questo è ancora più sentita, la dedico a tutti quelli che sono stati sempre con noi, che hanno creduto in noi, adesso dico la collaborazione anche agli avversari e soprattutto di loro, perché noi ci siamo e ci saremo sempre. Complimenti anche agli avversari, è stata difficile, forse per questo sarà ancora più bella. Sarà più bella e comunque dopo due anni di commissariamento finalmente il sindaco a melito, tutti se lo aspettavano. Diciamo che è quello che la città voleva, ha scelto col cuore, diciamo così. Adesso sono troppo emozionato per poter partecipare a tutti quanti, il mio stato unanimo, la voglio dedicare a tutti quanti. Tutta la cittadinanza, con un abbraccio a tutti quanti, nessuno escluso, consentitemi. E naturalmente un ringraziamento, adesso tutti al comune, un ringraziamento a Telemerito che è creduto dall'inizio alla nostra vittoria. Tutti al comune, oggi è il primo di giugno, quindi il sindaco a melito. Tutti al comune. Una grande festa, abbiamo anche un candidato, un grande, il dottore Rocco De Pietro. Oggi è il 25 aprile? Sì, dai, ma quella roba da comizio però, dai. Complimenti. Quella roba da comizio, sì. Complimenti a tutta la squadra. Grazie, grazie. Buongiorno, eh. È stata, no, complimenti a tutti, alla lista Marino, complimenti in particolar modo alla lista Minniti, perché hanno fatto una performance di tutto rispetto. Niente, abbiamo vinto noi per poco, però insomma, dai. Bene, bene, complimenti. Qui c'è veramente tanta gente che è venuta a festeggiare con la squadra di melito nel cuore, quindi questa grande festa, finalmente. Ecco, il sindaco a melito. Vediamo se riusciamo. Tutti al comune, andiamo tutti al comune, dai. Tutti al comune. Tutti al comune. Tutti al comune. Non è fira, people. No, a te. A te. O te. A me non si frebia. A chi si frebia. A per laka, a me. σω apri a sete ieri. E papura, vai latino a mariù. Di Damuns. Di Damuns. Da bene. Come sto? Una mesta. Na mesta. Da bene. Da bene. Da bene. Do no. Oh. Grazie a tutti.